E' rosso o no? Sì, finalmente ce la facciamo andare, prima abbiamo perso la memoria. Allora, ricominciamo da capo. Nome? Alessandro! Cognome? Di Mura! Te? Stefano! Poi? Come sono? Bravo, così li sputteniamo davanti alla vita. Io sono Max, ciao. E tu è sorella? No, come? Dove siamo? A Bentivoglio, sulla trasversale pianura. Distributore Eni. Cosa cazzo facciamo qui? Beviamo il caffè. Facciamo gli imbecini, allora. Io non passo a volte che passo qua in zona, che all'andato e al ritorno mi fanno prendere un caffè, perché è buono. E poi c'è la simpatia di questi diversamente magri, che sono qua, li vedete, guarda. Vieni più qua che sempre più lascia ancora. Alzati in piedi! Ah, sei già in piedi, scusa. Allora posto. E allora la simpatia go go. Una tartina, un caffè, un pieno di benzina e che? Però cosa manca qui? La passerina. Manca la passerina, ragazzi. Però abbiamo la passerona. Abbiamo la passerona. C'è una, quando hai fortuna, ha due tette che sono così. No, no, ce l'ha tutti i giorni, mica l'ha tutti i giorni. Va bene. Allora, stavolta registro ancora, vero? Ci siamo? E mi ha detto, ma te sei quello dei video, quello lì. Sì, allora lo voglio anch'io lì. Bene, allora dai, fai il video. No, io non lo volevo. Ti do il caffè, dai. Dai, anche a te, dai. No, ciao bastardi. Te, vieni anche a te. Questa è un altro spaglione che si vergognava. E' venuto dopo, tu. Ragazzi, questo è il posto dei diversamente intelligenti. Evitatelo. Ciao fratello. E da volta te non ci sei. Ciao.